Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di Ora Tg. Assieme al figlio e all'amministratrice di un'azienda della famiglia sono accusati di riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Nuovamente in manette Roberto Ginatta, presidente della Blutec, che avrebbe dovuto rilanciare lo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese. Vediamo il servizio. Il 73enne presidente della Blutec, Roberto Ginatta, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Palermo su disposizione del Tribunale di Torino. L'imprenditore torinese, che avrebbe dovuto rilanciare l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, era stato posto ai domiciliari oltre un anno e mezzo fa, ma adesso è stato nuovamente arrestato assieme al figlio Matteo e a Giovanna, desiderato contabile del gruppo imprenditoriale questi ultimi due domiciliari. Sono accusata a vario titolo di riciclaggio, autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale ed areato societario per la sparizione di circa 16 milioni di euro di finanziamenti pubblici erogati per il rilancio del sito produttivo di Termini Imerese, ma che secondo l'accusa sarebbero stati utilizzati per affari personali, come pure l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti della Juventus. Il GIP di Torino ha disposto pure il sequestro preventivo della MOGSRL, ritenuta la cassaforte della famiglia amministrata da Giovanna desiderato, sequestro anche per quote societarie e disponibilità finanziarie per circa 4 milioni di euro riconducibili alla stessa famiglia. Allora, io scriverei adesso al Credit Suisse per il 130 mila e gli metto causale girofondi per pagamento pratica legale, poi domani mattina chiamiamo P***o e diciamo la... Sì, 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 pratica legale, perfetto, ottimo. Sì, 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 mi sembra una soluzione migliore. È l'unica perché altrimenti non so come fare. Secondo la procura del capologo piemontese, il profitto illecito della condotta di malversazione ai danni dello Stato sarebbe stato autoriciclato in altre attività imprenditoriali e speculativi, ovvero nell'acquisto di titoli esteri nel trasferimento di tali provviste a favore di altre divisioni del gruppo. Le contestazioni di bancorotta fraudolenta si riferiscono alla gestione della Blutec, oggi in amministrazione straordinaria, e della Metec S.P.A. attraverso comportamenti dolosi, scrive la Guardia di Finanza, reati societari e grave condotte distrattive. Io qui sono stato arrestato oggi, io non pagerei gli stipendi a Termini Marese, perché adesso secondo me nessuna continuità su Termini Marese, e io non pago gli stipendi a Termini Marese. Lui che rischia di scrivere entra a papà, non a noi. No, lo chiede prima alla 2G. No, perché sono di papà, quindi non può chiedere alla 2G. Sì, ma quelli di papà erano in garanzia a noi, quindi loro sono esposti con noi, non con papà. No, con papà, è f***o, sono stato oggi. La mia vera è un legale, secondo me non è così. Comunque spostali. E non puoi, non puoi. Il patrimonio aziendale sarebbe finito in parte in dividenti generati solo da alchimie contabili, prosegue così l'inchiesta che era nata a Termini Marese e che era stata poi trasferita a Torino. Nella prima fase era scattato anche un sequestro di 16 milioni di euro per equivalente poi annullato e in seguito rinnovato. La difesa ha sempre sostenuto che le somme ottenute attraverso contributi pubblici sono state impiegate nel progetto di Termini Marese, tesi che però era stata contestata dagli inquirenti con spese ritenute improbabili scoperte nei mesi di indagine. Nel periodo di lockdown era sottoposto alla sorveglianza speciale. Non curante di ciò, non solo è uscito di casa ma ha anche rapinato una rivendita di tabacchi e è stato arrestato. Si tratta di un 29enne di Ramacca. Fruttò circa 3.500 euro il raid contro una rivendita di tabacchi a Ramacca nel Catanese, consumata il 19 marzo scorso. Siamo alle prime battute del lockdown, quando a tutti venne fatto il divieto di uscire di casa per decreto, ma che venne considerata lettera morta dal rapinatore che, dal volto travisato e con il coltello in mano, irruppe nella rivendita di Piazza Umberto e, brandendo la lama, si fece consegnare da una dipendente il denaro custodito in quel momento nella cassa della rivendita tabacchi. I carabinieri iniziarono subito l'attività investigativa. Si capì quasi immediatamente che il rapinatore non era sanitario ma era riuscito ad agire indisturbatamente grazie ad un complice che lo informò passo dopo passo telefonicamente dell'eventuale sopraggiungere di altri clienti o di pattuglie delle forze dell'ordine. Si trattava di un ragazzino di 15 anni già destinatario di un provvedimento cautelare del GIP del Tribunale per i minori. L'individuazione del palo, per così dire, telefonico consentì ai carabinieri di dare nuove svolte alle indagini, confermando così le impressioni già ricevute dai sistemi di videosorveglianza e dalla tracciatura dei tabulati telefonici. Adesso, grazie alla conoscenza del territorio e dei personaggi gravitanti in quel panorama criminale, i carabinieri di Ramacca hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 29enne Gaetano Giuseppe Camelia, indagato appunto per rapina aggravata in concorso, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, nonché violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. E sì, perché lo scorso 19 marzo, giorno in cui venne consumata la rapina, il Camelia avrebbe dovuto mantenere gli obblighi proprio della sorveglianza speciale. A 70 anni ha tagliato il traguardo del tanto agognato diploma di maturità, è la storia di un nonnino di Pedara che ha sostenuto un brillante esame, stupendo anche la commissione, vediamo. Il traguardo della maturità tagliato a 70 anni e per di più da uno studente modello dell'Istituto per Geometri Enrico De Nicola, del Polivalente di San Giovanni La Punta. Una prova brillante è quella sostenuta da Tommaso Dauria, che sino a qualche anno fa ha svolto la sua attività lavorativa nell'ambito aeronautico, poi approfittando di una felice concomitanza è tornato sui libri, ottenendo adesso l'agognato diploma di geometra. Il motivo principale che mi ha spinto a intraprendere questo percorso è stato quello che insieme a mia nipote, oggi 18 anni, la settimana prossima, lei affronterà lo stesso esame che io ho sostenuto ieri. Per cui sono due generazioni a confronto e questo deve essere, noi l'abbiamo fatto con uno spirito di sana emulazione, ho trovato il supporto in questo istituto che per noi ha un rapporto generazionale. Frequentare le lezioni dalle 17 alle 22 diventa un momentino faticoso, in ogni caso sono più che soddisfatto per il risultato ottenuto. Spero che questo serva di aiuto e di sprono anche per altre persone che dovessero avere questo tipo di esigenze sul territorio. Come metterà a frutto il suo diploma da geometra? Cercherò di fare magari del tirocine con dell'abilitazione, anche perché a 70 anni comunque si riparte, non bisogna fermarsi. Il settantenne è stato valutato assai positivamente dalla commissione d'esami, che ne ha riconosciuto l'adeguata preparazione e la ferrea volontà di portare a compimento il suo percorso scolastico. Studente modello a 70 anni? Sicuramente, questo studente ci ha dato l'opportunità di seguirlo e veramente siamo stati contenti di portare avanti tutti i nostri progetti, in tutte le discipline si è distinto. Ecco perché non capita tutti i giorni di avere uno studente avanti con l'età, però diciamo che lui si è comportato benissimo in tutto questo percorso formativo, che non è un solo a livello scolastico o di competenze, ma sicuramente è una crescita personale. Un esempio da seguire? Un esempio da seguire sì, sicuramente, sicuramente per chi vuole scommettere su se stesso anche un po' in ritardo volendo, ma è meglio seguirlo ai tempi giusti, quindi già essere rigorosi sin dall'inizio, da quando siete ragazzi. Politiche governative non adeguate, assenza di servizi essenziali. Ristoranti e pub aperti, ma la Fipe Commercio di Catania lancia un allarme. Economicamente le imprese sono sull'astrico. Dopo il lockdown, ristoratori, gestori di bar, gelaterie, pizzerie, pub, locali pubblici, hanno messo tutto l'entusiasmo possibile, ma anche tanti bei soldini, per riaprire i locali tra mille difficoltà. E con la consapevolezza che il ritorno alla normalità sarà molto lento e pieno di insidie. Anche Catania non fa eccezione. Dove però si sottolinea come gli aiuti promessi dal governo non siano arrivati, qualora fossero arrivati, solo in misera parte. Disaggio sociale questo sta a significare, spiegano i ristoratori, che si aggiunge al disagio sanitario che tutti, ristoratori compresi, hanno subito durante i mesi della chiusura. Secondo Fipe Commercio, manca progettualità, manca una visione reale dell'economia, manca la fiducia nei confronti di un governo che non avrebbe adottato le misure tempestive e opportune per il rilancio di un settore fondamentale in una città turistica, quale Catania, fondamentale comunque nel settore della produzione, atteso che i ristoranti, i pubbi, i locali pubblici, sono anche degli hub di promozione della filiera agricola e produttiva locale. Il disagio sanitario è diventato adesso un disagio sociale. Il governo ha gestito, in certo senso, la parte nostra di Fipe Commercio malissimo, anche la riapertura di tutto quello che si è del comparto ristorativo o della partita IVA in generale. Abbiamo oggi un problema di base. Il centro storico, come tutti i centri storici d'Italia, che fanno cultura, che vivono immersi nel barocco, quello nostro, ha una carenza di presenza di turismo. Ecco, il turismo è fondamentale per il prodotto interno nord di una città come quella di Catania. Allo stesso tempo, il problema qual è? Ci stiamo ritrovando sempre ad avere dei grossi problemi sulla prima fase, ancora oggi, sia le aziende che i nostri dipendenti, non hanno ricevuto quello che le è stato promesso. Il governo parla di terza fase, di fase di rilancio, ma non si può parlare di un rilancio quando non abbiamo avuto mai nulla precedentemente. Questo in via generale, poi in ogni singolo territorio, le singole criticità. Noi abbiamo riaperto, diciamo che la stagione estiva è ripartita, il comune di Catania c'è da testo pubblico, bene, ma abbiamo delle mancanze essenziali. Ad oggi abbiamo un problema che i varchi non sono controllati, perciò non basta, come al solito, a Catania avere un divieto di transito, ma ci ritroviamo con le macchine tra i tavolini, ci ritroviamo motorini che scorazzano indisturbati, ci sono degli assemblamenti che non sono neanche gestiti bene, da come ce l'ha stato garantito, perciò diciamo che ancora il Codice 19 non è una cosa che dobbiamo dimenticare, è una cosa che dobbiamo sapere gestire, dobbiamo gestire e vivere meglio, logicamente. Noi ci lamentiamo del fatto che i servizi essenziali, che possono essere la cartellonistica della rimozione, e i varchi controllati dovrebbero avere almeno più attenzione da parte del comune, anche se non ci sono i turisti, ma questo non vuol dire che non dobbiamo stare all'interno delle regole. E siamo in argomento coronavirus, due nuovi casi in Sicilia, ma aumentano i guariti. Nell'isola dall'inizio della pandemia si sono registrati 3.464 casi, attualmente sono ancora contagiate 637 persone, 168 in meno rispetto a ieri, 2.547 sono guarite e 280 decedute, zero nelle ultime 24 ore. Il boom dei guariti, quasi 170 quest'oggi, è probabilmente dovuto all'aggiornamento dei dati di alcune ASP che non avevano ancora comunicato alcuni numeri ufficiali alla regione. E intanto il Tribunale della Riesame di Catania ha annullato il sequestro cautelativo della casa di riposo Don Bosco di Caltagirone, in cui erano stati registrati 4 decessi di ospiti con Covid-19 e 41 casi di persone positive, compresi operatori. Nell'inchiesta per epidemia colposa sono indagate 5 persone, illegale rappresentante della struttura, due componenti, il Consiglio di amministrazione, la dipendente Zero, che l'azienda aveva messo in quarantena a casa dopo aver saputo da lei che il marito era risultato positivo al Covid-19, e un amministrativo dell'RSA. Per fare luce sui decessi, la magistratura ha disposto l'autopsia su 15 ospiti della casa di riposo, le cui salme sono nell'obitorio dell'ospedale San Marco di Catania. In piena fase 3 a Catania, consultori ancora non operativi. Ancora una volta le esigenze delle donne in secondo piano, dicono le rappresentanti del movimento, non una di meno. Ancora servizi del sistema sanitario siciliano fermi, nonostante sia stata superata la fase emergenziale più drammatica, mentre gli ospedali sono ingolfati dalle migliaia di richieste di visite specialistiche e arretrate. I consultori familiari sono aperti solo sulla carta. Ecco come è andata questa donna. Al telefono non rispondeva nessun consultorio di Catania, proprio non rispondono. Allora siamo andate personalmente per prendere una visita, per prenotare una visita. Mi hanno aperto a stento proprio un attimo, una fessura di porta, con fare aggressivo, questo lo posso dire tranquillamente. Alla fine insomma il succo è che loro non prendono appuntamenti, che aspettano informazioni dal dirigente. Forse entro fine giugno. Questo cosa significa? Poi siamo venuti qua, era chiuso, poi abbiamo telefono, insomma chiusi tutti. Qual è il senso di tutto questo? Che hanno sacrificato a Catania la medicina territoriale che riguarda le donne. Il comitato etneo non una di meno che da giorni prova ad avere risposte da chi a capo della rete dei consultori di Catania protesta con uno striscione davanti alla sede del centro di via Orfanelli. I consultori sono un punto di riferimento per moltissime donne. Adesso lasciate a se stesse, eccezione fatta per le gravidanze. Perché qua vengono le donne che non si possono permettere di spendere 150 euro di visita e io ci vado pure, li frequento per scelta e quindi in questi mesi lasciamo stare il periodo del Codib, anche se noi non siamo la Lombardia e non abbiamo avuto tutto questo problema enorme. Ma facciamo... Ora il Codib, l'emergenza è finita. Perché sono ancora chiusi? Non solo. In questo consultorio il ginecologo è andato in pensione a febbraio e lo stanno aspettando. Stanno aspettando un nuovo arrivo, ma non si sa quando. E' notizia di consultori invece in provincia regolarmente aperti? Per quello che ci riguarda, quello di Belpasso non ha mai chiuso. Quindi siamo alla libera interpretazione della legge. Ci spostiamo, facciamo una pausa ad Acicastello, dove vige il divieto temporaneo di balneazione su una parte del litorale per il valore alto degli enterococchi. Vediamo. I valori degli enterococchi presenti nell'acqua eccedono i limiti consentiti e pertanto il comune di Acicastello ha disposto il divieto di balneazione temporaneo nel tratto di mare castellese che va dal castello sino al Lido Larisacca. L'ordinanza fa seguito ad una nota dell'ASP di martedì con cui si comunicavano alla municipalità i risultati delle indagini sostenute dall'azienda sanitaria provinciale nell'acqua del mare. Quindi, al momento, niente bagni sotto il castello di Acicastello, almeno sino a quando il valore degli enterococchi non tornerà entro la norma così consentendo il rinfresco dei tanti che quotidianamente affollano nei mesi estivi uno dei tratti più suggestivi della scogliera etnea. In tal senso, nei prossimi giorni, l'ASP effettuerà nuovi prelievi per capire se si è innanzi ad un episodio sporadico come tutti sperano o se invece non sia necessario approfondire le indagini essendo quel tratto di costa prossimo ad un'area urbanizzata praticamente da sempre. Intanto, buone nuove arrivano dal fronte del consolidamento della piazza centrale della città rivierasca. Sono infatti partiti i lavori di consolidamento della struttura, un'area di grande valenza architettonica, paesaggistica, turistica, uno dei simboli di ACI Castello. L'intervento è stato disposto con fondi regionali 130 mila euro che serviranno a sanare le criticità della zona rendendo pienamente fruibile la piazza ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. L'assessore ha pure ricordato la tabella di marcia stilata a maggio che, secondo l'esponente del governo musumeci è stata rispettata e sarà rispettata in pieno. C'è ancora tanta confusione in merito al bonus vacanze promesso dallo Stato dopo l'emergenza sanitaria. Torniamo a parlare del Covid-19. Le agenzie di viaggio attendono chiarimenti a breve. Vediamo. Si è tanto parlato del bonus vacanze concesso alle famiglie nel post-Covid-19. Dal 1 luglio dovrebbe essere possibile accedere a questa misura, ma responsabili delle agenzie di viaggio attendono ancora delucidazioni in merito. In concreto non ci sono ancora delle disposizioni precise da parte degli organi di governo, anche se nel frattempo non sono mancate le richieste da parte degli utenti. Chiarezza definitiva dovrà essere fatta nei prossimi giorni, anche perché il beneficio viene concesso in base ai dati dell'Isee. Per chi ha un reddito al di sotto dei 40.000 euro, toccheranno 500 euro come contributo ai nuclei familiari di tre persone. in misura ridotta invece per i nuclei di due o di una sola persona. Stiamo aspettando che arrivino dei chiarimenti ben precisi da parte del governo o da parte di Regione Sicilia e sappiamo che entrambi si sono spesi per mettere in giro dei buoni vacanze in qualche modo, magari con caratteristiche completamente differenti, però non ancora vogliamo capirne le modalità. Sappiamo quello che abbiamo letto in questo momento un po' sui social, un po' sulle riviste di settore, un attimino è anche quello che abbiamo sentito che dovrebbe essere un credito che dovrebbe arrivare a un massimo di 500 euro per i nuclei familiari di almeno 4 persone quindi che varia da 150 a 500 euro che deve essere verificato con l'agenzia delle entrate in base a quello che è il reddito ISEE di ogni singolo nucleo familiare e in base a questo viene identificato con un codice che va portato in agenzia e il credito che poi verrà fuori verrà ripartito in quota parte come credito d'imposta sul soggetto titolare del buono e per l'altra parte invece quella più importante sulla struttura che ospiterà i nuclei familiari o le singole persone però in questo momento non c'è chiarezza per cui per dirle anche noi stiamo cercando di qualcosa di ben preciso sul quale lavorare sappiamo che di volta in volta abbiamo dei codici che vengono rilasciati dai CAF se le persone sono andate ai CAF o forse sicuramente anche tramite alcune link che possono essere direttamente fatti autonomamente con l'agenzia e le entrate per cercare di ottenere questi codici che poi noi possiamo spendere con le strutture che li accettano perché c'è anche da dire che non tutte le strutture accettano i buoni vacanze è verosimile che questa situazione possa essere reale dal primo luglio o ancora no? ma diciamo che è tutta una questione di sveltire le procedure e di darci delle informazioni ben precise riteniamo che sia assolutamente possibile tutto dipende se è ancora in Parlamento tutto quello che in questo momento è stato in qualche modo denunciato è stato tradotto realmente se ci sono chiaramente i decreti attuativi se questi praticamente sono conformi cioè noi abbiamo bisogno di regole con le quali praticamente andare ad intervenire per poter contattare le strutture attivare i codici e poter in qualche modo addivenire a quelle che sono le esigenze della singola persona e dei nuclei familiari da parte degli utenti assieme a questo momento ha ricevuto delle richieste? assolutamente sì ma senza mai un codice reale che potesse essere speso nelle strutture quindi tutti dicono io avrò diritto al bonus vacanza benissimo noi siamo felicissimi di accontentarli però abbiamo bisogno del codice di riferimento da poter dare alla struttura affinché la pratica si formalizzi e si realizzi dopo aver ripreso nelle scorse settimane i primi collegamenti con l'Italia KLM attiverà il collegamento Catania-Amsterdam a partire dalla 19 giugno cioè da domani Air France il collegamento Catania-Parigi-Chart de Gaulle a partire dalla 4 luglio sia Air France che KLM aumenteranno gradualmente le frequenze entro la fine di luglio Air France collegherà tutti i giorni l'aeroporto di Catania-Fontana-Rossa a quello di Parigi-De Gaulle mentre KLM sempre entro la fine di luglio opererà 4 voli settimanali alla volta di Amsterdam Andiamo adesso ad Acireale il diacono Sebastiano Genco a capo della Onlus Amici della missione dona 1500 mascherine protettive alla Caritas di Acireale L'associazione Amici delle Missioni la Onlus presieduta dal diacono Sebastiano Genco da 23 anni impegnato in Africa in aiuto alle popolazioni in difficoltà ha donato 1500 mascherine protettive alla Caritas di Ocesana-Diacereale i dispositivi sanitari verranno distribuiti nelle parrocchie tra i fedeli durante le funzioni religiose Genco ha speso parte della sua vita in aiuto alle regioni dell'Africa subsahariana costruendo pozzi d'acqua scuole ambulatorie e contribuendo nella fornitura di cibo ultimamente insieme al gruppo di volontari che da anni lo supporta nelle missioni è stato impegnato in Guinea-Bissau la regione dell'Africa occidentale tra le più povere del continente dove ha trascorso diversi anni a sostegno delle popolazioni indigene Sebastiano Genco è nota da Cereale per il suo instancabile impegno verso i poveri e diseredati grazie al sostegno degli Acesi che ne apprezzano i redotti umanitari e l'impegno verso quelle popolazioni in grave difficoltà martoriate da guerre e carestie un piccolo ma significativo gesto la donazione di 1.500 mascherine alla comunità che da sempre lo sostiene con donazioni in denaro destinate ai più poveri non solo sotto forma di aiuti alimentari ma anche e soprattutto nella costruzione di quei presidi fondamentali a rendere meno gravosa l'esistenza di milioni di persone attraverso la fornitura di acqua, potabili istruzioni e assistenza sanitaria per noi è venuto spontaneo quello di poter fare un qualcosa un pensiero di vicinanza per noi qui quindi come l'associazione Amici delle Missioni ha pensato di donare un po' queste mascherine a tutte le parrocchie della Diogesi anche se poi sono poche ma è un fiore che conta ecco ci hanno pensato ecco questo scambio di benevolenza tra l'Africa e noi che siamo qua la Cireale ci aiuta da 23 anni e quindi per noi appunto è venuto spontaneo bene questo di qua a parte le mascherine che noi stiamo dando abbiamo pensato anche di dare una cifra in denaro per coloro che ne hanno bisogno e ce ne sono tanti purtroppo ma anche questo è un fiore perché se chiamassimo un pochettino di più una volta si diceva un cuore in una capanna ecco il cuore in una capanna è quello di volerci bene il Signore Gesù ce l'ha detto l'umanità nostra ce lo dice di volerci bene e quindi dobbiamo sfondare questa porta il direttore della Caritas di Ocesana di Ecireale Don Orazio Torna Bene ha espresso parole di apprezzamento per il gesto del diacono Genco che stamani ha personalmente consegnato le mascherine protettive destinate alla comunità in tempo di crisi potevano continuare a fare il loro lavoro sulla missione invece la carità che apre il cuore dell'uomo fa ricordare che bisogna ringraziare anche coloro che aiutano e allora questo fiore che gli amici delle missioni con Sebastiano diacono Sebastiano Genco e gli altri amici che lo collaborano vuole far vedere come la carità è un'onda che si muove e che ritorna e quindi questo gesto che tu dai nei confronti dell'Africa in questo caso particolare della loro associazione poi ritornerà anche su di noi gli italiani e infatti rendiamo grazie per queste mascherine perché è vero che siamo arrivati alla fase 3 quindi delle aperture si ricomincia a vivere però ancora il virus c'è si è insediato il nuovo comandante del decimo reparto mobile della polizia di stato a Catania primo dirigente Giancarlo Consoli che proviene dalla questura di Catanzaro dove ha ricoperto l'incarico di dirigente della divisione polizia amministrativa sociale dell'immigrazione catanese del 1969 in servizio nella polizia di stato dal 1998 come vice commissario è stato anche dirigente del commissariato di polizia di stato di Caltagirone e funzionario di gabinetto presso la questura di Catania riqualificazione e prospettive di sviluppo dell'area industriale di Catania i temi al centro di una riunione nella sede di Confindustria le imprese della zona industriale di Catania non possono più attendere la riqualificazione dell'area in cui operano con estrema difficoltà a causa del gap infrastrutturale a chiedere tempi certi e chiarezza sui soggetti chiamati a produrre fatti portando a compimento le opere previste e necessarie è ancora il numero uno degli industriali che oggi ha riunito attorno allo stesso tavolo i protagonisti nel primo confronto non telematico dall'inizio dell'emergenza il confronto sarà abbastanza chiaro su quelle che saranno le competenze i tempi e le responsabilità di chi e cosa bisogna fare non possiamo più consentire che aziende multinazionali primarie in Italia debbano ancora soffrire di allagamenti e non possono entrare nelle proprie aziende danni reversibili a quelle che sono le strutture attuali di alcune aziende l'IRSAP l'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive diretto da Gaetano Collura presente all'incontro ha recentemente fatto ordine sul sistema delle competenze per sbloccare le procedure imbrigliate nella burocrazia la gestione del sistema idrico nella zona industriale passa al comune e quindi alla sitra dal canto suo l'assessore al ramo Giuseppe Arcidiacono assicura sull'interlocuzione in corso per i 10 milioni stanziati nell'ambito del patto per Catania e patto per il sud sono 5 i progetti di cui uno curato dal comune e quattro direttamente dall'IRSAP i lavori redatti già definitivamente partiranno a breve assicura all'assessore mentre sono già stati avviati i cantieri per l'impianto di illuminazione risparmio energetico e della caserma dei carabinieri area operativa la gara è stata giudicata poi per gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento della rete viaria non ancora invece espletata quella relativa alla rete idrica conoscere la tempistica dei lavori e la condizione minima in un contesto infrastrutturale che arranca fortemente rispetto alle più sviluppate aree industriali un paradosso che nell'era del digitale a mancare le imprese catenesi siano i servizi basilari non è possibile allora noi oggi cerchiamo di avere un attimino più contezza di quella che è realmente la situazione siamo contenti che abbiamo tutti gli attori principali dei vari passaggi e delle varie competenze perché il rimballo delle responsabilità è finito l'istituzione delle ZES zone economiche speciali dovrebbe richiamare investitori per via delle agevolazioni fiscali anche quelle giunte passo di Lumaca guardi come al solito noi sia in Italia che in Sicilia arriviamo sempre in ritardo perché in Polonia sono partite nel 2014 2012 e la crescita è stata a due numeri del PIL da noi arrivano dopo tre anni che sono partite in alcune altre parti d'Italia e il momento è molto delicato sicuramente zucchero non guasta bevanda le ZES vanno in quella direzione ora aspettiamo i decreti attuativi e capire come e quando iniziare rimaniamo a Catania ma ci spostiamo al villaggio d'Usmet dove regnano degrado ed incuria villaggio d'Usmet terra di nessuno parola dei cittadini residenti nel quartiere costretto a chiedere a gran voce ancora una volta l'intervento del comune di Catania il rischio a ridosso della stagione più calda e innanzitutto quello degli incendi si fa portavoce del malessere della zona nord della città il consigliere Andrea Cardello il villaggio è in condizioni veramente pietose pieno di sterpagli alberi da potare bambinopoli totalmente inaccessibili ai bambini io vorrei fare appunto questo appello all'amministrazione non esistono zone di serie A e di serie B chiedo uno scerbamento o di una potatura degli alberi immediato anche perché andiamo incontro ad un periodo di incendi è un pericolo reale anche perché le varie aree verde sono subito accanto agli appartamenti alle case dei residenti a fare le spese dello Stato di abbandono sono centinaia di famiglie e di bambini previ di spazi sicuri ed idonei ad accoglierli dopo mesi di isolamento abbiamo una bambinopoli dove ci sono dei giochi per i bambini che sono totalmente inaccessibili sterpaglie sporcizia tutto questo non è ammissibile chiedo che il sindaco faccia subito quello che deve e dia splendore di nuovo al villaggio d'Usmeth e dia appunto la possibilità di vivere in maniera civile e decende anche agli abitanti di quella zona la legge sulla semplificazione amministrativa in Sicilia approvata dall'ARS ma anche le zone economiche speciali zesse e progetti per il rilancio dell'economia dell'isola sono questi alcuni degli argomenti per il rilancio affrontati questa settimana all'intervista ospite il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Eiosè Marano si parlerà anche delle frizioni interne al partito pentastellato a Roma così come a Palermo appuntamento dunque questa sera alle 20.20 alle 23.30 e replica nei prossimi giorni nuovamente in studio non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora dunque si conclude qui la seconda edizione del nostro telegiornale disponibile all'indirizzo che vedete sovraimpressione ma anche sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook adesso le previsioni meteo per la giornata di domani e la regolare programmazione della rete a voi tutti buon proseguimento di serata queste le previsioni meteorologiche per la giornata di domani venerdì 19 giugno in Sicilia alla mattina e sino alla pomeriggio prevalenza di cielo sereno su tutta l'isola dalla sera però nuvolosità irregolare soprattutto nella parte occidentale della regione i venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali i mari da mossi a poco mossi le temperature in ulteriore lieve aumento ovunque sia nei valori massimi che in quelli minimi in Sicilia orientale si raggiungeranno picchi di 34-35 gradi centigradi in Sicilia